Salve! Salve! Benvenuti o bentornati a Zitto e Guarda, un podcast dove ci obblighiamo a vicenda a guardare film e non si può fare niente se non stare zitti a guardare. Ah, non abbiamo detto, io sono Giulia. Io sono Jacopo. Ciao, salve, niente, questo è un nuovo episodio. Sì, non sappiamo presentare, mai, non abbiamo mai imparato e non impareremo mai. Allora, l'episodio di oggi, eh, Jacopo. Tocca a te, è il tuo turno. Ma è il tuo turno di guardare il film, quindi, wow, sono felice. Siamo, allora, ci siamo lasciati male l'ultima volta. Cioè, almeno dalla mia parte. È due volte che ci siamo lasciati male. No, dai, secondo me tu hai preso peggio, cioè, tu hai preso peggio coso, le principesse, io Tremors ce l'ho fatta comunque, dai. Ah, sì. Ti ho visto più. Ci siamo lasciati bene. Io mi sono lasciato male due volte fa. Esatto, cioè, l'ultima volta che hai guardato un mio film ci siamo lasciati male, ecco. Sì, ma io perdono tutto come le principesse. Porgo l'altra guancia. Bravo. Ho imparato solo questo da quel film. Quindi oggi mi volevo far perdonare, e non so se ci riuscirò effettivamente, ma ho scelto Rullo di Tamburi, un film che è uno dei miei film preferiti, Jacopo. Quindi, questa è una cosa importante. Esatto, addirittura, forse sarà uno spoiler, ma tanto so che tu non te lo ricordi, o almeno ci spero, è uno dei film che io ho nella classifica top su Letterboxx, presente nel tuo profilo che puoi mettere i, cosa era, sono cinque film, i tuoi film preferiti. Quattro film. Ecco, questo è tra quelli. Ah, ok. No, non me lo ricordo, non guardo tante volte il tuo Letterboxx. Per fortuna, Gesù. Esatto. Promettiamoci di non guardarlo a vicenda. No, esatto, non lo guarderemo, non lo guarderemo. È uno dei quattro, wow. È uno dei miei quattro film top di Letterboxx, quindi ti sto andando, no, a far vedere una cosa importante e seria e, capito? Allora, allora ho un'idea, però. Hai un'idea? Se è quella che penso dura cinque ore e non, non so. No, no. Allora no, non penso niente. No, no, no. So zitto. C'è un'altra premessa che ti metterà ancora più pressione, cioè non solo questo è il mio film preferito, ma io faccio il lavoro che faccio, ovvero l'attrice, perché ho visto questo film quando avevo, non lo so quanti anni, pochi comunque. Pochi? Di che anno è? Del 2005. Eh sì, avevi dieci anni, wow. Già, e quindi, quindi capisci. Cioè questo, quindi formativo. Un film formativo e a me fa molto ridere perché io ti sto facendo tutte queste premesse e poi quando tu vedrai il film dirai, tu hai dei problemi. Anche qua, mi mettono in bocca parole che ancora non ho detto, quindi lasciami. Va bene, ok. Tu non non hai dei problemi. Non lo so, andiamo avanti. Andiamo avanti. Adesso ho paura perché ho un po' pressione. Allora, ci sono, vorrei fartelo indovinare però, il film. Ah, madonna. Perché secondo me ci puoi arrivare, credo. Abbiamo detto è un film del 2005, è ok. Ti do degli indizi. Il primo è un grosso indizio, ovvero Nicole Kidman. Ah, wow. Nicole Kidman. Sì. Nel 2005. Sì, poi. Chi era? Eh, aspetta però. Il secondo indizio che ti sorprenderà, la prof innocenti. No, no, perché? Non farmi questo. Era la nostra professoressa del, possiamo dirlo, sì. Certo, del dance. Del dance. Lato mio le volevo molto bene. Anche io, un sacco. Ok, ok. No, non mi ricordo queste stigliezze, però cosa ci fa nel nostro film? Perché ne ha parlato lei? Eh, eh sì. Ne ha parlato lei? Oh no. Potrebbe, è una cosa che potrebbe. Era la professoressa di radio e televisione, quindi è un film da cui hanno tratto una serie? Eh, al contrario. Oh, wow. Oh, il campo si restringe. Allora, un altro indizio che forse si potrebbe ricollegare a quest'ultimo. Wandavision. Ma, no. Cosa c'entra Nicole Kidman? Nicole Kidman ha fatto un film di Batman, ma erano gli anni 90, quindi... Wandavision. Allora, se riesci a collegare Wandavision alla Innocenti, secondo me ci arrivi. Eh, è sempre per la storia della televisione, ma... Ne abbiamo anche parlato, quando abbiamo visto Wandavision. Eh, vabbè, ma era il mondo... Due milioni di anni fa. Sì, esatto. Non avevo capelli bianchi quando abbiamo parlato di Wandavision. Capito. No, sono fuori. Non ne ho idea. Non ne ho idea, ok. Wandavision è lei che fa finta... Cioè, lei che vive la sua vita come se fosse una serie tv, quindi ci ricolleghiamo alle serie... Cioè, sono qua. È tratto da una serie tv nel 2005. Cosa c'è? A Nicole Kidman. Non è Sex and the City, non c'entra. No, no. Non c'è Nicole Kidman in Sex and the City. No, è... Sarah Jessica... Parker. Peter Parker, esatto. No, sono... Non lo so. Aiutami. Ok. Vuoi un altro indizio o ti svelo? Andiamo. No, dimmi tu. Ci sono altri indizi? Fammi provare. Eh, ok. Allora, potrei... Altri indizi. Questo è grosso. Magia. Eh, vabbè, no. Come magia? Wandavision? Ci sono le streghe? Magia. Ci sei molto, molto, molto vicino. Sei lì, sei lì. Nel 2000... Io guardavo streghe con mia sorella, però non... non ci hanno fatto un film, lo saprei. Ci hanno fatto un film. Però, aspetta... Allora, adesso ti do proprio un grosso aiuto. La serie è molto vecchia. Oh, no. Il film, invece, del 2005. Che per qualcuno potrebbe essere molto vecchio, comunque, cioè, diciamo... Ah, sì, vabbè. Non so qual è il nostro target. Non voglio... No, no, infatti. Non voglio... Dimmi carmi nessuno. Eh, serie con le streghe... Sabrina. No, Sabrina non è così vecchia. No, infatti. Sabrina è... Una serie storica. Una serie storica americana. No, adesso mi metti sotto pressione. No. Io questo esame l'ho già dato, non voglio... Cioè, allora... Allora, appena te lo dico, dirai... Sono contento che questo sia un podcast, perché voi non vedete niente in questo momento, ma la mia faccia è molto concentrata e sono... Ah, ma aspetta... C'è anche Will Farrell in questo. Sì. Ah, ed è... Vita da strega. Esattamente. Wow, wow. Allora... Ah, quindi questo... Metti un effetto sonoro, suona una campana, perché questa è arrivata la volta in cui ci siamo detti, ma sarà mai che uno l'ha già visto questo film? E tu l'hai visto. E io l'ho visto, solo tecnicamente, perché adesso mi ricordo, Vita da strega con Nicole Kidman, l'ho visto tipo un anno dopo. Il 2006? Sì, fu uno dei primi film che i miei genitori presero a noleggio, quando c'era ancora Blockbuster. Adoro. Loro lo guardavano, io giocavo al Game Boy e quella volta ho catturato un Pokémon leggendario. Grodon, per chi non sapesse... Mi ricordo questa cosa, quindi... Come si chiama? Vabbè, no, adesso voglio vedere... Wow, ho indovinato. Incredibile, è la prima volta che succede. Esatto. Quindi l'avevo già visto. Sì, però spero che non te lo ricordi. Io ho questa immagine semplicemente di Will Farrell che arriva in bici e dice cose e tutti lo guardano male. Non mi ricordo nient'altro, io ho questa cosa qua. Sono molto felice. Quindi è lui? È lui. Wow. No, vabbè, ma... Vita da strega che è ripreso dalla famosa serie Bewitched, cioè in inglese sarebbe Bewitched e in italiano Vita da strega, che noi abbiamo, ricordiamolo, l'abbiamo studiato in strega della radio e della televisione con la mitica Innocenti. Io però questo non me lo ricordo, però, cioè di averlo studiato... Non ti ricordi? Io vabbè me lo ricordo perché io già ai tempi ero tipo Bewitched, è il mio film preferito, lo amo. E quindi quando ci aveva fatto vedere il vero Bewitched, la serie che anche nel film si vede, ero tipo, oh mio Dio, no papà raga. E niente. Sono felicissima di farti vedere questo film. No, sono scioccato. Adesso... Shock. Sì, perché non mi ricordo assolutamente di averlo studiato, ne avremmo parlato sicuramente, però Bewitched e in Mita da strega... Sì, che viene poi citato anche in Vandavision, presente che lei fa tutti i trucchetti... Ah, sì, no, perché c'è quell'effetto sonoro magico. Esatto, esatto. Vabbè, l'innocente... No, adesso sono... Sto cercando di mettere in fila i pezzi, ma mi ricordo solo i Pokémon. Non riesco a... Eh, vabbè, succede, anche succede. È un problema di noi bellissimi. No, è un problema... Pensare ai Pokémon è il mio problema... Vabbè, ma questo è un altro podcast. Questo è un altro podcast. Allora, appunto, Bewitched, film del 2005, tratto dalla serie Bewitched, vita da strega, che vede appunto come protagonista Nicole Kidman e Will Farrell, ma ti dirò, c'è un cast allucinante, ma non ti voglio svelare niente, e quindi vedrai tu. Però, come al solito, io non solo ti ho dato gli indizi per indovinare, ma ti darò anche delle cose che devi trovare all'interno del film. Ok, ok, sono pronto adesso. Sei pronto? Vai, carta e penna. Ce l'ho, ce l'ho. Il primo... La prima cosa che devi trovare è Batman. Oh, wow. C'è sempre Batman, comunque, nei nostri film. Infatti, è la terza volta, tipo... È incredibile. Batman... Batman l'attore o Batman... Vabbè, non... Batman come concetto. Come concetto antropologico di Batman. Esatto. Vabbè, quando vedrai, capirai. Ah, chiaro. Poi, Late Show... Ok. Ci sono due momenti in cui questa cosa ha un senso. Ok, per due, quindi. Esatto. Boris. Ma come Boris? Beh, capirai, capirai. Ma come Boris? Sì, capirai. E l'ultimo... Ero indecisa tra due, quindi li ho messi entrambi, che sono però... cioè, sono due cose che riguardano una sola cosa all'interno del film. Ok, Ying e Yang. Esatto. Scott Pilgrim e Wes Anderson. Ok. Bella coppia. Adesso è un film che voglio vedere, grazie, non l'avrò mai, però... E niente. No, sono carico stavolta. Best film ever. Sì, la pressione si sente, perché è uno dei film preferiti, cioè, sono... aiuto. Allora, vabbè, poi magari lo spiegherò meglio, però sono molto legata a questo film, gli voglio un sacco bene e mi fa molto ridere. Quindi questa cosa... ci tengo. Ci sta. Abbiamo bisogno di ridere, sempre. Sì, sempre. Niente, quindi vado. Vai. Sono pronto. A dopo. A dopo. Ciao, ciao. 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 Allora, poca roba e più 2005 di questa colonna sonora. Cosa volevano dirci? Non lo sa nessuno. Aspetta, c'è Batman perché c'è Michael Caine? Non si chiama così, non mi ricordo. Il vecchio, il maggiordomo che fa il papà di lei. Ma è lo stesso personaggio praticamente, è solo uno stregone. Ma c'è Alex Martin? Schwarzman si chiama così, quello di Scott Pilgrim e di Wes Anderson. Perché hai i capelli alla Disney Channel? Perché mi hai fatto notare questa cosa? Adesso tutti i film degli anni 2000, la gente che ha i capelli così. Anche Steve Colberto. Cosa vuol dire? Will Farrell non sei speciale. Anche se vedessi Nicole Kidman in libreria, mi innamorerai subito. Quindi Bewitched pone la domanda che nessun'altra ho mai usato chiedere. Ovvero, cosa succederebbe se Corinna Negri fosse talentuosa? Ma è terribile lo show. Perché il padre sulle confezioni di cibo è molto bewitched effettivamente. È una cosa che ti immagini nelle serie vecchie, carino. Io ho una grande crush sull'amica di Samantha che ha desideri omicidi. La capisco, sposiamoci. Ecco la scena in bicicletta che cantava il suo nome, non mi ricordavo. È assurdo che io abbia questo ricordo di Will Farrell che arriva in bicicletta. E nient'altro. Bellissimo. Il mio cervello è proprio stupido. Merda, queste frecciatine a Daniel Day-Lewis. Adoro, bellissimo. È stata una scena incredibile. Vabbè, Steve Carell la sorpresa. Incredibile, bellissimo. Bentornati, bentornati a tutti. Hello, com'è andata Jacopo? Sai che è andata bene, mi sono divertito tanto. Sono felice. È stata una riscoperta perché appunto l'avevo già visto e mentre lo guardavo mi tornavano cose che ricordavo di aver almeno sentito con la coda dell'occhio. Giocavo al Game Boy, ripeto. Luca ha giurato. Avevo sentito con la coda dell'occhio. Unicona. Però sì, ci sta. È particolare. Cioè, penso... Perché tecnicamente vuole essere un reboot così, completamente fuori da ogni senso. Cioè, almeno io... Perché io non ho mai visto la serie da cui è tratto questo, se non Spizzichi e Bocconi quando l'abbiamo studiata, a quanto pare. Allora, inside joke nostro è raro che io non mi ricordi una cosa e Julie sì. Di solito è il contrario qui. È vero, è vero. Questa cosa è incredibile che sia successa. Sono preoccupato per me stesso più che altro. Però, tra l'altro, nel film viene fatta la mia stessa... che non l'ho detto prima, però volevo dirlo. Quando facevi la cosa del... mi hai spiegato Vita la strega, io non so perché è venuto in mente un'altra serie che invece ho visto un botto di volte, la vedevo a casa dei miei nonni, che aveva la stessa trama, però la tipa non era una strega, era un genio, tipo, che usciva da un vaso. Ah, ho capito, certo. E nel film ne parlano, cioè, dice, mi hanno fatto il casting per Vita la strega, e lei, ah, quello col genio. Anch'io ho pensato questa cosa. E infatti, no, mi fa piacere che torni tutto. Quindi cos'era quella, una copia, quell'altra serie? Sai che non lo so, però ho presente e io un po' me la ricordo, anche qua sempre per i motivi sbagliati, ma perché la citavano nei Maghi di Waverly. Ecco, così, la trama era uguale, cioè, c'era questo genio nella bottiglia, nel vaso, quello che è, si sposavano e facevano cose, con tanto di... Vabbè, comunque, digressioni a parte, devo spiegare un po' la trama, se no... Eh sì, dici un po' cosa hai visto. Allora, se ho capito bene, questa strega di nome, non mi ricordo già... Neanche io, ma secondo te, Jacopo, ma non mi ricorderò mai. Quei nomi sono terribili. Comunque Nicole Kidman. No, Isabel, mi sembra. Può essere. Perché lui, perché c'è il momento dove canta, Isabel! Ah, è vero, esatto, Isabel, che è una strega, ed è una strega come Sabrina Vita la strega, cioè muove le mani e succedono cose, non ci sono particolari regole. No, esatto. Infatti, fanno queste cose qua, che vuole vivere una vita normale, perché è stanca del mondo delle streghe, dice lei vuole... Lo dice proprio, voglio solo trovare un uomo da mettere a posto fondamentalmente, che abbia bisogno di me. Infatti, molto sottona lei, mi piace, perché... Stata, sì. Cioè, è un... vogliamo dirlo intellettualmente, tipo un ribaltamento dello stereotipo. Di solito è l'uomo che è sottonissimo a una donna e ci prova in tutti i modi a conquistarla, invece lei... Gli piace questo perché ha un buon odore ed è incasinato, letteralmente, non sto inventando la parafrasi di quello che succede. Quindi questa cosa mi ha fatto molto ridere, comunque. Mi piace così tanto quando sei sudato, così. E niente, questa è una strega, vuole vivere nel mondo degli umani, però non sa fare niente, quindi ha bisogno di un lavoro. E putacaso trova lavoro come attrice in un remake della serie Vita alla strega, che in inglese è Bewitched, ho capito? Dove interpreterà la strega. Quindi, ah ah ah, abbiamo assunto una strega vera che è fare la strega nella serie, ma nessuno sa che lei è una strega, quindi ci sono varie equivoci, coincidenze, cose stupide che succedono e fanno tutte molto ridere, comunque. Mi sono divertito. Infatti, infatti il cast, intanto, volevo dire che... Eh esatto, anche perché, dai, cioè la maggior parte delle cose che ti avevo dato da trovare erano proprio sul cast, perché faceva ridere. Perché, va bene, abbiamo Will Farrell che, vabbè, Nicole Kidman già citata, che comunque Nicole Kidman è, come si dice, un'attrice di spessore. Non penso che adesso Nicole Kidman farebbe un film del genere, per esempio. Non lo so, però io spero che invece faccia come Anne Hathaway, che adesso ha fatto di nuovo, deve uscire di nuovo una sua rom-com. Insomma, spero che anche Nicole Kidman prima o poi faccia il giro e torni da noi. Sì, però sto pensando all'ultima volta che Nicole Kidman ha fatto un film così leggero e non mi viene in mente, sarò sincero. Ma magari non ho visto tutto, eh, però... Aquaman. Ok, però sì, però non è protagonista, dai. Hai ragione, no. Nel senso, anche, coso, Anthony Hopkins era nella Marvel, però, insomma, faceva altro, ecco. Hai ragione. Cioè, quello penso li abbia fatti per pagare la casa al mare, insomma. Può essere. Non lo dico con biasimo, è brava Nicole, ce l'avrei fatto anch'io. No, no, ha fatto benissimo. Però non mi hanno chiamato, cioè, ho perso proprio contro di lei al provino, quindi. Comunque, il cast. Comunque, il cast, appunto, sì. Quello di cui non mi ricordo mai il nome, ma è l'attore, uno degli attori feticcio di Wes Anderson. Jason Schwartzman. Jason Schwartzman. Che io non so perché mi viene a chiamarlo Alex Schwartz, anche se non è lui, però, sbaglio sempre. Però, insomma, lui che fa l'agente di Will Ferrell e fa il classico agente un po' viscido e megalomane, così. Bravissimo, fa ridere. Michael Caine, che fa il padre di lei, che è anche lui uno stregone, che ci prova con tutte le donne, perché con la magia lui fa tutto. Che vabbè, la Samo Berde, terribile, però... Però divertente, nel contesto divertente. Sì, sì, no, fa sempre ridere. È tutto molto leggero il film, non c'è niente di pesante, anzi. Sì, e poi, alla fine del film, questo è un mezzo spoiler, ma tanto qua abbiamo deciso che siamo liberi da spoiler, arriva Steve Carell. Bellissimo. Che interpreta... è tipo un personaggio della vecchia serie che esce e arriva nel mondo vero, però si comporta... è tipo il diavolo, non so come dirlo. Cioè, a me da voler dire questo è Satana, che è venuto a fare casino per, tipo, gli ultimi sei minuti di film. Un delirio. Sì, sì, ma con tante di scena che... ma chi ti ha portato qua e inquadrano... Sai cosa? La cosa che amo del personaggio Steve Carell in questo film è che lui è palesemente in overacting, ma consapevolmente. Assolutamente, sì. Quindi è proprio bellissimo. Era anche Steve Carell prima di aver finito The Office, quindi era ancora attore comico e basta. E appunto c'è questa scena che dicono, ma come sei arrivato qua a Will Ferrell? Lui si gira verso Steve Carell che non c'è più, è scomparso. E non mi ricordo chi c'è in scena, ma penso lui e Nicole Kidman guardano il cielo, c'è una stella cadente che cade e una risata malvagia sotto. Quindi ho detto, beh, il diavolo, così, come è arrivato se n'è andato, però era il diavolo per me. Però sì, ed è che è carino, è stato un film carino, cioè ho capito perché ti piace alla fine, con tutta la storia della recitazione, un po' a caso. Vorrei aggiungere, dato che stiamo parlando sempre del cast due chicche. Allora, la prima è l'amica bionda di Samantha, di Isabel, che è Christine Chenowelt, credo si dica così. Lei era nel cast originale di Wicked, il musical che è andato a Broadway. Quindi anche questa è un po' una, se vogliamo, una chicca perché anche lei faceva la strega, la strega buona, Glinda. Io lei la conosco, ma è uno di quegli attori che vedi sempre, ma non ti ricordi il nome, quindi brava lei. Sì, e c'è, raga, io, un altro dei motivi per cui amo questo film, c'è Shirley MacLaine, credo anche questo si dica così, scusate le mie pronunce dei nomi, ma non le so. È Shirley MacLaine che ha lavorato con uno dei miei registri preferiti della vita, del mondo e dell'universo, ovvero Billy Wilder. E lei ha fatto l'appartamento e Irma la dolce. Quindi è l'altra attrice che fa la mamma di lei. Esatto, fa la mamma di lei nella serie tv. Nella serie tv. Esatto. E niente, c'è tutto questo gioco dei ruoli che non si capisce cosa fa parte della serie, cosa fa parte della vita reale, cosa fa parte del film. Cioè, si capisce, però giocano molto quei punti di vista, ecco, perché non c'è molta logica in questo film per quello che succede, però nel film sì, non so come spiegarlo, oggi le parole non arrivano, però spero si sia capito. Allora, diciamo che è un film molto comico a tratti demenziale in certe cose, no? È molto esagerato. Eh sì. Però lo è volutamente, perché secondo me vuole riprendere e modernizzare il tipo di comicità che c'era poi nella serie tv originale, nel senso che era una serie comedy negli anni sessanta, quindi si usava molto, insomma, la comicità fisica, in più utilizzavano anche tutti quei trucchi vecchio stile, no? Esatto. Quindi frizzare la fotocamera e far tenere in mano una cosa all'attore, così sembrava che apparisse, no? Sembrava che apparisse, sì, sì. Invece che usare la CGI c'erano tutti questi trucchetti. E spesso anche proprio staccato dal contesto serie che stanno girando, il film stesso utilizza questo tipo di trucchi. Esatto, è quello che volevo, me l'ero segnato, che mi piace perché appunto anche nello stile il film riprende queste cose. Ci sono un paio di scene con la computer grafica, ma giusto perché erano cose impossibili da fare altrimenti, però per il resto sono tutti trucchi di appunto fermo immagine, oggetti di scena che spariscono. I miei preferiti sono i modi in cui appaiono le altre streghe e stregoni durante il film. I personaggi, sì. Che sono tutti molto appunto vecchio stile, tipo Michael Caine che esce da una parete dove è dipinto un corridoio. E poi sono su un set di un cinema e vedi che arrivano quelli che spostano il dipinto nel corridoio. Bellissimo. Che sono trucchi molto facili, oppure lui che appare nelle pubblicità, tipo lui che si mette a parlare con sua figlia, da cos'era la scatola di pomodori, tipo adesso non mi ricordo, una roba del genere. Sì, lei è al supermercato e lui appare in tutte le confezioni di cibo, di cose che lei guarda. Queste cose, ripeto, le trovo molto carine perché è un modo, secondo me, originale, no? Anche di citare la serie da cui stai prendendo ispirazione, no? Sì, infatti mi domando quante citazioni ci fossero. Penso che uno che abbia visto la serie vecchia troverebbe molta più roba di noi. Sì, perché allora io un po' l'ho vista ma non l'ho vista tutta. Eh no, sono nove anni. Vorrei farlo prima o poi però. Wow. Quindi c'è qualcosa la cogli ma... Sì, sì, infatti. Le magie che fanno durante il film non sono niente di straordinario, cioè normalmente fai apparire questo, fai scomparire quest'altro, la più comune è... Lei cosa si tocca all'orecchio, mi pare. Il suo modo di fare magia è tirarsi l'orecchio e fa dire alle persone quello che vuole. E lo fanno tutti. Perché è una delle cose che mi piace di più perché vedi sempre l'attore che è normale, poi tipo si rigidisce, sgrana gli occhi, sorridisce la cosa più cringe che tu abbia mai sentito in media tua. Tipo non mi lavo da sei giorni e poi se ne va. È bellissimo. Così. Oppure anche quella gag solita che fanno nei film o nelle serie così, che lei vede una che odia, così, allora la odia tantissimo, quindi fa una magia che le fa cadere addosso, la uccide praticamente, con una lampada del set e poi dice... E allora riavvolge il tempo e le fa tipo... Le toglie la parrucca, una roba del genere, capito? È che è molto stupido ma mi fa molto ridere. Sì, fa veramente tanto ridere. Hai trovato gran parte delle cose che ti avevo detto? Sì, mancano giusto... Vabbè, Boris, perché questo film è una puntata di Boris americano praticamente. Sì, fondamentalmente sì. Ci sono le varie scene di stop, azione, questa falla così, lei che con la magia fa succedere cose sul set, tutte rave così. Scott Pilgrim e Wes Anderson, l'abbiamo detto prima, è l'attore Jason Schwartzman o Schwartz e basta? Jason. Jason Schwartzman, lui che fa Gideon nel Scott Pilgrim e un sacco di gente in Wes Anderson. Late Show, perché ci sono... Uno dei personaggi del film è Steve Colbert, che però non fa Steve Colbert, mentre invece a un certo punto appare Conan O'Brien, che fa Conan O'Brien. Esatto. Quindi così, non so quando è iniziato Colbert a fare dei show. Non lo so, penso dopo però. Esatto. E Batman perché appunto c'era Michael Caine, che penso fosse per quello, no? Sì, 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 era per quello. Ok, non ho perso niente. No, no, l'hai trovati tutti bravissimo. No, allora, vorrei però parlare un attimo del personaggio di Will Farrell, perché è una delle mie cose preferite in questo film, lui, che a me fa ridere, in generale, Will Farrell è un attore che a me fa ridere, ok? In questo film in particolare ha delle cose che io mi sono resa conto col tempo, ogni tanto le faccio, senza volere. Oddio, in che senso? Tipo gli sguardi strani. È presente che lui le insegna a fare gli sguardi, no? Sì, sì, va bene, lo facciamo tutti, no? No, 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 che fa tipo... Oh, cacchio, è presente quella cosa? Eh, non lo facciamo tutti. No, nel senso, come lo fa lui? Cioè, che si gira... Eh, ognuno ha un modo suo, no? Stavo avendo un momento... No, amore, non lo stai capendo. Sono io, sì, no, ho capito la scena in cui dice, lui che si guarda intorno, io lo faccio. Non così, faccio un'altra cosa. Sì, sì, no, però dico, cioè, io mi sono resa conto nella mia vita che siccome ho visto questo film 500 milioni di volte... Ah, dici che hai preso il manierismo. Esattamente, ho preso quella cosa nello specifico perché lo fa lui e mi fa troppo ridere, cioè... E poi il fatto che, allora, c'è una scena in particolare dove appunto lui insegna a Isabel i segreti, no, del suo mestiere d'attore perché in teoria Will Farrell nel film è un attore affermato che però sta avendo un po' di problemi dopo un film è andato male, quindi deve fare la televisione. E niente, quindi tipo, lei che non ha mai fatto nulla, insomma, è una novizia, le insegna i segreti del mestiere. Il punto è che questi segreti del mestiere sono tipo delle sue facce, perché sono stupidissime e che fanno molto ridere. E che lui ha usato in vari film e questa cosa nel film fa ancora più ridere perché da lui sembra un idiota quando le fa, ma poi dopo c'è un momento in cui lei e le due hanno litigato e lei sta guardando la tv, fa zapping e ci sono tutti i film di sto qua dove ci sono tutte le cose che lui ha insegnato. Ma infatti un'altra cosa che mi ero segnato di tutto questo è che mi piace un sacco questo film come approccia o comunque mette in scena la finta Hollywood di questo mondo che ovviamente è tutto esagerato rispetto alla realtà o a volte meno, però tutto molto sopra le righe. E appunto lui che ha fatto questo film che si chiama Fuga da Kathmandu, una roba del genere, quei film che fanno gli attori super seri che però fan cagare, non si guarda nessuno. E appunto c'è lui in bianco e nero con la barba sulla neve che fa sto viaggio oppure quello in Vietnam, no, quelle mia mamma mi hanno fatto super ridere. Sì, bellissimo. O anche... Che fa Cesare anche. Sì, è vero. Spartacus Rex il film. Sì, con l'altro che ha gli occhiali normalissimi quindi vabbè, tutte scene così. Mi ha anche, mi è piaciuto un sacco che quella mi piace in tutti i film quando fanno vedere i finti provini delle varie persone che vogliono entrare nel film. E io lì ho pensato che praticamente quello lì è tutto un montaggio, l'inquadratura è ferma, cambia solo l'attrice perché lo sfondo è il classico sfondo da ufficio dove gli fanno, come si dice, il provino? Quando leggi le battute. Sì, sì, il reading, quelle robe. Il reading, ecco. Non sono un esperto di... Dove leggono e dico sempre la stessa battuta e cambio solo l'attrice e secondo me, tipo, se tu in quello stesso montaggio lì prendi le scene di Emma Stone in La La Land, ci stanno uguali. Perché sono lo stesso vibe. Perfetto. A me queste cose fanno impazzire. Un giorno dovrei fare, tipo, un montaggio di tutte le scene, di audizioni, di tutti i film che vedo. Sarebbe... Vabbè, queste sono cose mie, però... Sono così... O anche questo, il fatto che l'attore megalomane che nel contratto ah, io voglio tre roulotte per il mio ruolo. Ci deve essere un leopardo. Con dei diamanti. E tutti i mercoledì porteremo la torta e faremo finta che sia una sorpresa. E faremo finta che sia una sorpresa, esatto. Perché il mercoledì è il giorno della torta. No, no, è bellissimo. Poi ovviamente la gente vicido, tutti gli yes men dell'attore pazzo perché devono sempre farlo contento. Quello è molto Boris. Esatto, sì, sì, sì. Il fatto che lei non abbia battute all'inizio perché lui vuole tutta la scena per sé, insomma, ce n'è un'infinità. Oppure il fatto che lui nel film sia palesemente un attore di merda. E poi quando vuole assumere una ci sono mille ragazze fuori che fanno Jack! Voglio decidere con te! e poi c'è stata una scena di dissing pesante a un attore che mi ha fatto super ridere perché non ho niente contro questo attore. Ce l'ho col metodo. Io col metodo attoriale mi rompe il cazzo. Questo l'ho già discusso io e te altre volte perché tu mi dici che serve, sono sicuro così, però non serve fare lo stronzo. Vabbè, ma questo è un altro discorso. No, no, sai che sono d'accordo. Per chi non lo sapesse, il metodo, praticamente l'attore non esce mai dal personaggio neanche quando... Cioè, finché il film viene girato lui è sempre nel personaggio, anche quando dorme, quando mangia, quando caca. Non è proprio così, lo sto semplificando, però il concetto è quello. Con conseguenze di solito fastidiose per tutti quelli che gli stanno intorno. Se non lo sapete andate a vedere Jim Carrey quando ha fatto un film dove ha usato questo metodo ci hanno fatto un documentario sopra è lui che rompe i coglioni a tutti fondamentalmente. Comunque, cioè lei che siccome è una strega vera quando le propongono di fare la strega e le fanno leggere il copione lei dice sono una strega e lei no, 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 ma io non sono una strega perché c'è questo momento che lei pensa di essersi tradita e così però è bravissimo a fare la strega e le risposte che dà fanno tutte ridere e però continua a parlare a un certo punto tipo mi ricordo la scena esatta però lei perde tipo il filo comincia a dire cose che per gli umani non hanno senso e c'è Will Ferri che dice ma stai avendo un momento da N.A. Lewis per caso e niente è un dissing pulito pulito che ci piace perché perché sì sì altre cose carine che mi sono piaciute ah c'è un'amica di lei che lavora sul set penso faccia l'assistente o la segretaria di edizione non è chiaro però è sto personaggio che praticamente il suo ruolo è dire battute omicide verso gli uomini o in generale le persone che le stanno sul cazzo e mi ha fatto molto tipo lei non vuole accettare la parte e la prima cosa che lei dice non si conoscono ancora gli fa tipo ma andiamo a fuoco la sua roulette dai facciamolo così ma non si conoscono non sono mai parlati in vita sua e lei è super seria fa queste cose perché no perché non dare fuoco alla roulette del tipo altre cose lei che all'inizio del film dura poco questa cosa però lei non è mai stata nel mondo degli umani o comunque non è abituata a viverci e va in giro a cercare a fare cose che gli umani fanno normalmente tipo sistemare la tv senza la magia quindi non sa che cavi attaccare va in libreria e c'è un libro che letteralmente si chiama cosa fare con la tua vita hai figlio bro molto molto relate capisco e si sono insomma tutte piccole cose che funzionano per me mi sono piaciuto è stato divertente è un film ripreso l'ho detto 50 volte io lo amo è uno dei miei film preferiti e mi è sempre piaciuto proprio perché un po' ti fa vedere no il il retroscena di Hollywood ovviamente in questo modo molto molto stravagante e e poi proprio per per come è leggero cioè è proprio non lo so è una commedia romantica se vogliamo però è un po' più sopra le righe rispetto alle solite commedie romantiche in cui c'è sempre comunque un momento magari un pochino più no oddio si perché c'è questo elemento del fantastico e poi l'abbiamo detto la confusione fra quello che è vero quello che è il film quello che è la serie nel film e quello che è la serie vecchia cioè tutti questi piani esatto non ci fanno molto è sempre tutto superficiale lo dico con cioè non in senso negativo nel senso proprio è tutto in superficie non c'è cioè almeno per me questo film non ha grandi chiavi di lettura se non accetta gli altri per quello che sono che va sempre bene però ecco ma sì non è Shakespeare e va benissimo ripeto va benissimo però mi ha sempre fatto volte ridere è molto meta esatto ed è per questo che mi piace tanto perché c'è solo tante cose tante chicche tante citazioni ed è molto divertente e ho un aneddoto riguardo a questo film che probabilmente sai ma non so se sai che è legato a questo a questo film allora abbiamo parlato di Late Show quindi torniamo ad un Late Show questa volta quello di Jimmy Fallon il mio il tuo meno preferito aspetta qual è l'altro sono due Jimmy Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon ah sì Fallon è quello che odio ok ok vabbè ma è nato Jimmy ma è nato Jimmy comunque Jimmy Fallon relativamente di recente parliamo di qualche anno fa ok qualche magari fai anche 4-5 anni fa adesso non me lo ricordo nello specifico comunque Nicole Kidman era ah no era nei tempi di Paddington non so non mi ricordo Paddington 2 o 3 il 3 il 2 ok allora pre-covid ancora wow comunque parliamo di un po' di tempo fa però non non stiamo parlando del 2005 ok ok vabbè comunque Nicole Kidman è ospite a Late Show di Jimmy Fallon e niente stanno stanno parlando insomma chiacchierano eccetera e viene fuori una cosa ovvero che dopo aver girato questo film Nicole Kidman aveva una crush per Jimmy Fallon no Nicole aveva una crush per Jimmy Fallon e si ricordava di averlo incontrato se non sbaglio proprio a tipo la festa o qualcosa legato a Bewitched ok e quindi aveva chiamato un suo amico e aveva detto oh ma mi presenti Jimmy so che è single ma dai sì così no vabbè acchittiamo una roba e sto suo amico fa vabbè vabbè allora sto amico chiama Jimmy e fa oh guarda che sto con Nicole Kidman sto a venire a casa tua e lui oddio vabbè ok la descrizione che ha fatto Jimmy Fallon del suo appartamento in quel momento era tipo l'appartamento di un uomo single a cui piace molto giocare ai videogiochi quindi questo già ci fa capire il tenore è solo che Nicole da questa cosa lei aveva preso insomma questa roba come un appuntamento quindi lei si è presentata tutta figa tutta carina a casa di Jimmy Fallon che era tipo in mutande in mutande aveva la casa che era no cioè un po' così con tipo sai gli avanti del cibo cinese sul tavolo e tipo l'ha fatta sedere lì e lui non aveva niente da mangiare le bottiglie vuote non faceva neanche esatto non faceva ancora la spesa e tipo gli ha dato dei crackers con del formaggio che c'aveva in frigo così però lui non è che ha pensato più di tanto cioè se sono io lo dicono cioè cosa deve fare così no e quindi Nicole Kidman ha detto io dopo quella cioè dopo quella volta ho detto no io e Jimmy Fallon non potremmo mai funzionare e c'è c'è proprio questa scena dove Jimmy Fallon realizza che lui avrebbe potuto avere un'opportunità con Nicole Kidman e tipo sta malissimo internamente e dice me l'ha solo bruciata perché non avevo capito non avevo capito in sua difesa non glielo avevano detto quindi no è vero però ti prego invito te e anche chi sta ascoltando il podcast di andare a vedere quell'intervista perché è veramente molto divertente e poi tra di loro si crea questo questo momento proprio di disagio in cui sono palesemente in imbarazzo l'uno con l'altra anche perché poi tutti e due adesso sono sposati e quindi è anche lei che fa Jimmy io sono sposata vabbè adesso vabbè non mi devi convincere per vedere un video dove Jimmy Fallon non si fa umiliare quindi grazie te lo segno bello bello quindi c'era questa piccola chicca era proprio quel periodo lì il periodo di vita da strega e quindi mi piaceva mi piaceva darvi questa informazione un po' di gossip che non fa mai male tra l'altro lei Nicole Kidman è super brava in questo film è brava più o meno sempre però in questo è brava a fare quel personaggio che ho una parola ma è troppo offensiva non offensiva però è degradante è un po' naif sì ma quel naif un po' esagerato scusatemi la bionda la tipica bionda di Hollywood così ok sì lo stereotipo non me ne vogliate cioè è tipo è tipo una dei personaggi di Clueless a un certo punto sembra di quelli non non dei protagonisti di quelli che loro sì ecco più che più che la bionda perché a volte la bionda è sì un po' svampita così però a volte è anche un po' bici cioè lei è proprio mi viene quasi da dire lo stereotipo di Marilyn Monroe esatto un po' così un po' sulle nuvole gentile con tutti comunque no ci sta è bravissima in questo ripeto fa piacere vederla in qualcosa di un po' più leggero perché a parte Aquaman che hai detto tu non mi ricordo nient'altro di Nicole Kidman dopo andrò a vedere sinceramente neanch'io mi ricordo magari ha fatto delle robe ma non le abbiamo viste ti volevo chiedere visto che prima hai detto che tu guardando questo film ti è partito qualcosa da de dentro cosa che cosa ti è partito cosa che ti ha fatto dire wow questo a me è sempre piaciuto vedere i dietro le quinte dei film perché quando ero piccola ero ossessionata con i ficene guardavo veramente un'infinita proprio ossessione e quando sei piccolo a volte cioè non a volte spesso non capisci certe dinamiche no e quindi poterle vedere per me era già una cosa fighissima e poi questa è una roba un po' strana non so neanche come spiegarla però io ho sempre amato tanto i posti finti tipo i set ah ok ok quindi tipo all'Ikea quando ci sono le finte le finte case io le amo oppure anche quando vai nei parchi divertimento no che è tutto così irrealistico io vivrei in un posto del genere e quindi questa cosa dicevo ma che figata che tu tutti i giorni vai in un posto finto ci sta bello sì e poi vabbè poi andando avanti cioè quando non ho più avuto nove dieci anni ho iniziato a capire che c'era altro oltre a questo questo mestiere mi è piaciuto ancora di più però quando ero piccola era proprio questa cosa del cioè del poter lavorare in un posto dove fai finta di fare le cose poi appunto questo film è molto leggero quindi era tipo vivi in un posto che sembra quasi un mondo delle favole non so come dire cioè lo vedevo così con gli occhi di una bambina ovviamente poi sappiamo che non è questa la realtà però io lo vedevo così ecco ci sta mi riallaccio a una battuta che fa Will Farrell nel film che dice acting is better than normal e direi che true è quello penso è vero è passato quello carino bello grazie allora per aver condiviso questa piccola parte di nel tuo mondo interiore prego questo è il momento smancerie e niente quindi questo questo era Bewitched wow bello bello sono contento di averlo rivisto senza giocare al Game Boy stavolta yes e tra l'altro piccolo spoiler cioè questo film a sua volta è uno spoiler di una prossima cosa sai perché mi fa ridere questa tua affermazione perché secondo me hai capito no 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 ok perché potrei dire la stessa cosa nel mio prossimo film oddio e se è lo stesso non è lo stesso sei sicuro sicurissimo ok però vedrete la prossima volta non come sai non ti rivelo niente però va bene quindi sì perché il prossimo è il tuo ed è l'ultimo esatto l'ultimo di questa signor Jacopo prima stagione tranche stagione sì non so come chiamarlo questa prima stagione stagione questo season finale vedrai vedrai oddio mio aiuto può darsi che tu l'abbia già visto però non mi interessa tanto cavolo vedremo vedremo il fatto che tu mi hai detto che questo è uno spoiler ho paura che sia lo stesso che ho fatto io non lo è stai tranquillo non può non può esserlo impossibile impossibile però basta basta nell'ultimo episodio il prossimo dobbiamo essere fiscali abbiamo resistito fino adesso fiscali va bene va bene è il fabbricante di lacrime no non è vero sai che io non l'ho visto devo vederlo no non devi però se vuoi conoscendomi secondo me mi piace Netflix neanche ci paga per queste cose pensa te quanto sia non lo so dai ma sai cosa allora questa piccola non so se la lascerò però piccola parentesi ogni volta che ci sono questi film un po' tresciotti che tutti prendono in giro ma che merda che brutto qui lì blibli io penso sempre a Twilight e a e a come poi noi abbiamo fatto tutto il giro e siamo tornati indietro sui nostri passi e quindi gli after i fabbricanti di lacrime benvengano ok però questa è una discussione troppo lunga per la fine di un podcast no infatti hai ragione però ho lanciato questa bomba a volte hai ragione non penso sia questo il caso no non l'ho visto qua io lo dico così per partito preso sì però l'unica cosa che dirò è che Twilight non era una fanfiction quindi after è questo penso di sì quindi insomma sì sì after sì il pubblicante di lacrime non ne sono sicura after sì certo è una fanfiction su Harry Styles capito che è bellissima però se fosse rimasta non ci interessa questo è si tu guarda e non guarderemo after spero non guarderemo ah non guarderemo after ah ok mi sono scavato una fossa profonda quanto la fossa delle Marianne vabbè after non era non era nella mia lista ho cose ben peggiori da farti vedere Jacopo a quelle sono pronte bene grazie per avermi fatto vedere questo film prego e grazie a te per esserti prestato e nulla noi ci vediamo al prossimo e ultimo episodio della stagione ciao 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 Ciao!